La Promessa, Episodio 85, Rivelazioni scioccanti e verità oscure. Un capitolo cruciale per i nostri protagonisti. Benvenuti a un nuovo e avvincente capitolo della serie La Promessa. Nell'episodio 85, i nostri eroi si trovano di fronte a rivelazioni, che cambieranno il corso delle loro vite. Preparatevi a immergervi in un'avventura intensa, carica di emozioni, e colpi di scena, mentre esploriamo i momenti chiave di questo episodio straordinario. La Determinazione Implacabile di Giana. Il cuore dell'episodio, è dominato dalla Determinazione Implacabile di Giana. È determinata a fermare il matrimonio imminente tra, Manuel e Gimena. La sua convinzione che l'amore di Manuel per Gimena, sia stato costruito su menzogne, e manipolazioni e increscita continua. Insieme a Martina, Giana è determinata a far emergere la verità nascosta, dietro questa storia d'amore apparenza. L'inganno di Gimena e Cruz. Il confronto epico tra Giana e Gimena, è uno dei momenti salienti di questo episodio. Gimena, consapevole delle rivelazioni imminenti, cerca disperatamente di evitare il confronto. Ma la verità, è un torrente inarrestabile che sta per travolgere tutti. È chiaro che Gimena e Cruz, hanno sfruttato la fragilità mentale di Manuel, a proprio vantaggio, manipolando la sua percezione della loro storia d'amore. La confronto con Gimena è la verità che sta per emergere. Quando Giana e Martina cercano di affrontare direttamente Gimena, questa cerca di evitare il confronto. Tuttavia, la verità sta per emergere. È chiaro che hanno sfruttato la fragilità mentale di Manuel a proprio vantaggio. L'opportunità di far recuperare a Manuel, i suoi veri ricordi si presenta quando Giana riesce finalmente a riparare l'aereo. C'è la speranza che quando Manuel lo vedrà, i suoi ricordi torneranno. Il passato nascosto di Giana. Inoltre, Giana è sconvolta dopo aver visitato il cimitero e aver visto suo padre. Parla di lui con Maria, nominandolo per la prima volta in tanto tempo. Emozioni profonde e nascoste affiorano, rivelando un passato turbolento e misterioso. Il segreto oscuro di Romulo. Nel frattempo, Romulo, il maggiordomo, finalmente ricorda, cosa è accaduto al fratello minore di Gregorio. Questo segreto oscuro, inizia a tormentare Romulo, lasciandolo sconvolto e pieno di senso di colpa. Cosa nasconde questo segreto, e come influenzerà il destino dei personaggi? Sentimenti nascosti e rivelazioni su Salvador. Simona parla con Lope dei sentimenti del ragazzo verso Maria. Lope è costretto a confessare a Maria la verità su Salvador. Il suo acerrimo nemico, lo tiene prigioniero. Tuttavia, questa verità è troppo difficile e dolorosa da affrontare per Maria Fernandez. Per difendersi dal dolore, lo accusa di mentire, sostenendo che lui sta cercando di prendere il posto di Salvatore. La Marchesa e la gelosia di Petra. Nel frattempo, in cucina, succede qualcosa di incredibile. La Marchesa si presenta di persona, per congratularsi con Simona, Lope e Candela per il loro coraggio. Questo provoca una grande gelosia in Petra nei confronti del resto del personale. La donna si rivolge direttamente a Cruz, per avere spiegazioni. Cruz confessa, di aver agito per ordine di suo marito, ma promette che gli farà pagare questa umiliazione. Cruz è convinta che il prossimo passo da compiere, sia cacciarli dal palazzo. Il malore di Donna Pia. Nel frattempo, Donna Pia sviene e cade tra le braccia di Don Gregorio. Quest'ultimo si rende conto che qualcosa di grave sta accadendo alla governante. Cosa sta succedendo a Donna Pia? Quali segreti si nascondono dietro questo malore? Questo episodio di, la promessa è carico di tensione, rivelazioni sorprendenti e momenti emozionanti. Non perdete l'opportunità di scoprire come queste verità oscure influenzeranno il destino dei nostri amati personaggi. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi e colpi di scena nella prossima puntata, iscrivendovi subito, al canale.